Ciao! Avete mai desiderato fare foto incredibili di cibo con il vostro smartphone? Oggi vi darò 5 trucchi essenziali per ottenere foto da gourmet con il vostro telefono. Preparatevi! Primo trucco, sfruttate le luci e le ombre a vostro vantaggio. Giocate con la luce naturale o artificiale per creare contrasti interessanti e mettere in risalto i dettagli del cibo. Il secondo trucco? Sperimentate con gli angoli e la prospettiva. Non abbiate paura di cambiare l'angolazione per rendere la foto più interessante e accattivante. La composizione è la chiave. Terzo trucco, prendete cura della disposizione del cibo. Giocate con i colori, la simmetria e l'equilibrio per creare una composizione accattivante. Non trascurate i dettagli. Il quarto trucco è usare la modalità macro per catturare la bellezza nei piccoli dettagli del cibo. Siate precisi e puntate sui dettagli che fanno la differenza. Ultimo trucco ma non meno importante, l'editing. Utilizzate app di editing per aggiustare luminosità, contrasto e colori. Giocate con filtri per donare un tocco unico alle vostre foto. E questi sono i nostri 5 trucchi per scattare foto da gourmet con il vostro smartphone. Provate questi consigli e trasformate ogni piatto in un'opera d'arte visiva. Alla prossima!